the morning si qui sono le 10 e come dico in questi casi certo non una mattina prestissimo una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's may 16 2022 and it's a monday in naples clear clear morning in this moment very still right now 77 fahrenheit around 25 celsius and this means that it's that day really 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 soft like in these days in this period and surely also over because it seems more summer climate the spring climate of course we are going to the summer praticamente un poco più di un mese quindi ah it's also normal as riguarda le videotuts i don't know if i do it i think vs but if i do it as always will be separate from this so eyes open in the case in case you are interested anyway as you and you all just see from the windows yes i think that this afternoon temperato potrebbe anche salire mi sembra proprio il caso oggi ma vedremo sicuro non scendere dallo stesso livello but the really important thing with this atmosphere is that surely we are going to be enjoying those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine i think all along the way ovviamente come sempre qui all along the way qualche ora è meno rispetto a dove vivete voi essendo un orario diverso speriamo di continuare con questo trend anche domani che va avanti da cinque giorni se non erro benissimo così uno dei trend più lunghi questo mio wetter riporto col sole se non erro si per cui i said this so from the mythical window with the orange red the blue green water curtain and this green going to be on the top not visible i'm fact ordering this shot and finally from a mythical keyboard yamati gx 640 ipg 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 625 and finally from a mythical keyboard yamati gx 640 ipg ipg 625 e poi grazie a te e poi grazie a te un saluto davvero a tutti e anche io la farò tra poco il mio stomaco è pronto non so se lo sentite e soprattutto spero possiate consolarvi con la vostra bella colazione se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti rispetto a qui I'll see you in i video toots if you'll do it or tomorrow I'll see you in the video